Auguri a Mina che oggi compie 80 anni, un mito della musica italiana. Leonardo Metalli. Non è un caso se la chiamano la tigre di Cremona, la sua grinta, la sua voce, la sua fama in tutto il mondo ci fa dimenticare la sua età. 80 anni, oggi per Mina, la nostra Mina. La voce italiana che ci emoziona da sempre, il mistero delle sue apparizioni, ma se volete veramente annoiarla, parlatele del passato, perché lei ha sempre progetti futuri. Mina è anche una vita fantastica, divisa esattamente a metà. 40 anni tra il pubblico e 40, un po' come siamo noi oggi, isolati. Dalle nostre case, con affetto, gli auguri di colleghi e fans arriveranno più forti e più affettosi. Auguri a Mina, la più grande cantante bianca del mondo. Non l'ho detto solo io, lo dice lui, Armisen, me lo ha detto. E poi io aggiungo la più grande cantante jazz italiana, come dimostra questo Sunday della Bussola, un concerto indimenticabile. Auguri a Mina. Com'è parlare dell'emergenza coronavirus? 2012. Grazie a tutti.